Ciao ragazzi, qui da questo schizzo oggi siamo qui in un nuovo video Siamo sempre con la palla di ghiaccio, ma oggi la proveremo a rompere La proverà una mia amica a rompere questa palla Anziché la telecamera passa a me E lo strumento passerà a lei Leggiamo Ok, ok Ragazzi, rotta Guardate, guardate Guardate, guardate Guardatelo Guardate ragazzi Questo È una palla di ghiaccio rotta, guardate Si è spaparottata in mille pezzi Mi sa che qualcuno vuole spaparottata la faccia in mille pezzi E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un commento E non mi piace Ciao ragazzi